Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro cicciochimano89, siamo tornati su Castlevania Signori, abbiamo battuto quel testa di cacchio che io non lo sopportavo mai Abbiamo un sacco di punti da spendere, quindi spendo i punti e siamo subito da voi Bene, allora sto a un'ora e sette, quindi finché non arriviamo a due ore va tutto a posto Questi non li ho presi tutti, già lo so di mio che non li ho presi tutti E dobbiamo andare a cercare l'ultimo discepolo che rompe veramente i coglioni In un modo... Vabbè, adesso posso portare più orologi Oh, rottura di cazzi questi Ecco, viate la frate voi Ci dovremmo escere qua, sì Perché l'aria è chiuso, e infatti Raga, un'ora e quaranta di registrazione, quindi quaranta minuti Passati, non so quanto l'ho fatto, vedete, forse tre secondi di video È stato molto lungo arrivarci qua, devo esserci sincero Anzi, devo dire che ho guardato un altro pull trou perché non mi dava proprio il segnalino Boah Strano forte, sti giochi sono strani forti quando fanno così, eh C'è niente da te Allora, qua davanti dobbiamo sempre utilizzare lo specchio del destino, se non mi ricordo male Perché ci aprirà la porta Probabilmente Molto probabilmente Che ci permetterà di finire sto gioco Fatto Non capisco se era necessario ogni volta Ricomporre lo specchio per aprire la porta E poi se lo fanno sempre più difficile Quelle fiamme laggiù promettono Tanta tanta roba So che ho tanti punti di esperienza ma In realtà utilizzo solo gli attacchi basi e mi trovo benissimo così Fatto Lord of the Earth King of the World I order the forces of darkness to pour its infernal power over me Let the gates of hell open wide And from the Abyss greet me as your brother and friend I order everything to be as I command Eccolo Una caccola Eccolo Ah Ok 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 I despise incompetence I must congratulate you I confess I had not expected to see you here Inveja We could share this world You And I But you desire to destroy me Che cazzo di sottotitolo Che cazzo di sottotitolo Che sottotitolo era quello Ma potete spiegare perché Sono contento Che cazzo di sottotitolo I desire to destroy this world If I cannot rule the world of men Then no one will Vabbè ma Ditemi Come lo fermiamo Mi sembra un po' grosso Ma proprio leggermente Perché questo qua sicuramente è la scheda di satana Sicuro al 100% Vabbè tanto sappiamo chi è no? Quindi Vai Ok c'è pure le buscole e ballerine Aia Ho visto ho visto Venga qui cambiano un po' le cose Spesso e volentieri Oh aia Fa malissimo Scandica di energia Un cacchio Ok Sono sicuramente dei sicili Ma Addio che bordello Rega che bordello Togliamo le Le altre catene Incredibili Menomane che lui non se ne sta accorgendo di niente Se ne ha accorto Questo sale 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 Oh la la Oh la la Vuole distruggere pianeta E invece Becca e porta a casa Brutto basardo Bene 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 Giustamente Più se sale Qua bisogna pure scendere No Mi sa che sono cazzi raga Uh che figata come arena Cioè avete capito no? Come arena da combattimento Sì 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 Sì, va bene Sì, oh Zio, mo va bene tutto, ma Esageriamo o no, eh Tanto già l'avevamo fatto, che dici? La bifetta Allora Prima di tutto, un attimo Che questa ma la doggia tutta Ok Poi ci mettiamo questo Aia, un attimo Allora, ragazzi Qua sono morto una volta Per capire che lui comunque fa sempre un doppio Attacco C'è quello che non posso fermare, no? Avendo capito questo Forse Abbiamo capito come Battere sto maledetto che è Fortissimo Ragazzi, fortissimo Mamma mia, ragazzi Voi ci mettete qualcosa? Perché io ce ne ho il cacchio Però basta con queste cose, eh Hai stufato Escio per te Che in realtà era meglio se mi facevo prendere Da quell'animazione là Via Dai, dai Via E via di nuovo Facciamo Via, via Bazzardo che non sei altro Quanto è forte Fortissimo Allora Secondo me Secondo me A breve Si dovrebbe liberare del corpo Del nostro figliuolo Secondo me Perché dice È troppo debole Blablabla Che tesestra Incula Aia Anticipi pure Se mi fai rialzare Ok A merda A schifo A schifo Regà, manca pochissimo Lo sto menando Con tutto quello che ho Praticamente E dai A merda Che non sei altro E c'è qui Aia Che dici Sono andato Maffanculo Ma che praticamente Sei morto Oh Cioè O bisogna Vedere quanti livelli Ce stanno Prima che muore Ma sono dure Che sto regista Castelvenia Non è che È partito come miss Mah Od La Di Sonia O Mamma mia Tremendo Ustacci sua Tremendo Guardamo esce Eh ma lui lo sapeva Ma lui lo sapeva Sì ma infierisci per bene Io ho sempre detto Decapitategli la testa Quando dei boss incredibilmente forti Vengono sconfitti no? Ad esempio il Nemesis Cioè non ci incischiate Porca miseria Figliuolo tutto ok? Sei stato solo Possessato da satana Insomma Giustamente Giustamente Vedi? Aia Non esageriamo però eh Aia Aia Father The sun is rising It's time to go What happens now? Forse finalmente ha visto qualcosa di carino Ecco Who knows what fate has in store Mamma mia signori E me sa che lo abbiamo finito Sapete E' stato lunghissimo Come gioco Veramente Lungo 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 Tante cose le potevano anche non mettere Ok Direi anche bene Lui è rimasto fermo lì Il figlio Davanti Dice che faccio Entro non entro Finito Finito E me sa che si è Ed eccolo qua Signori Signori Saltiamo qua la cazzinne Perché tanto Ok Accediamo Ok Perfetto Signori Abbiamo finito il gioco Che dire Se il video vi è piaciuto Se la serie vi è piaciuta Pollicione in su Commentate Condividete Vi ringrazio per averla seguita Insieme a me Adesso riprenderà Penso Uncharted E poi Batman Bella signori Bella 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 Bella